La civiltà cattolica presenta Abitare nella possibilità Ma più sola nel bosco, di Diego Mattei Ma più sola nel bosco, dentro le fiabe dei fratelli Grimm, di Simona Vinci, è un libro interessantissimo, un'opera a cavallo tra il saggio e il diario, con il quale l'autrice ci parla di sé, della propria infanzia e delle favole che l'hanno accompagnata nella crescita. Le fiabe, si sa, aiutano a crescere e sono un allenamento alla vita. Da esopo in poi, le storie con animali parlanti e con creature fatate hanno nutrito la fantasia e l'intelligenza di generazioni di bambini e bambine che si apprestano a diventare uomini e donne adulti. Le fiabe parlano degli elementi fondamentali dell'esistenza umana la paura, la morte, il cibo, la convivialità il rapporto con la violenza e la rabbia insite nel cuore dell'uomo le relazioni, i desideri, l'obbedienza che salva la vita e la ribellione che permette la scoperta dell'autonomia la connessione con la natura e gli altri esseri viventi. Tra le pagine più belle scritte da Simona Vinci ci sono quelle in cui descrive il mondo dell'infanzia abitato da creature magiche, a volte benevole più spesso misteriose e minacciose. Le fiabe sono la mappa per abitare il mondo. Nelle fiabe dei Grimm spesso c'erano personaggi che assomigliavano alle persone che incontravo per strada durante il tragitto da casa a scuola e viceversa. Leggevo le loro storie con avidità per cercare di comprendere, senza dover fare domande dirette agli adulti che sembravano così distratti e poco interessati a tutto quello che non rientrava nel novero delle urgenze e incombenze quotidiane. Cosa mai potesse essere capitato a queste persone? Come facessero a vivere? Come fossero le loro vite e i loro sentimenti riguardo a ciò che gli era accaduto? Soprattutto, le fiabe aprono al mondo dei desideri. Scrive Lavinci I desideri possono essere tanti e diversi ma quello di base è di poter vivere una vita più ricca di significato. È per questo che si parte, si affrontano pericoli, si accetta di mettere in gioco tutto durante il cammino. Per l'utopia di una vita migliore con la speranza di farcela magari grazie a qualche grammo di fortuna e di magia. elevarsi al di sopra della propria condizione di partenza recuperare qualcosa che si è perduto o poter avere ciò che non si è mai ottenuto da una mancanza a una presenza.